Ok, la prima missione di ricerca è fallita, ma sai come si dice? Si chiude un portello, si apre un portellone, e ti è concentrato ancora più grosso con tanti altri pezzi di telescopio, che dovrai andare a cercare. Adesso. È molto entusiasmante, vero? Questo migliorerà la messa a fuoco, e potrei anche dipingerci una decalcomania, cioè non io, un mio amico. Sì! Attenti sensori, state per ricevere un nuovo sistema magnetico interno. Non c'è di che. Oh, che gran telescopio! Vorrei poterlo costruire per sempre. Però, apocalisse imminente, eccetera... Grazie a tutti!